aggiornamento di calcio mercato inter anche oggi facciamo il punto ma ci concentriamo sull'attacco di quest'inter perché bisogna mettere un po' di ordine in mezzo a tante voci che stanno circolando in queste ore nell'episodio di ieri vi ho fatto un aggiornamento sulla situazione relativa a Nathan Nandez e soprattutto su Hector Beyerin vi ho riportato ieri mattina una eh notizia un aggiornamento che poi è stato di fatto sostanzialmente confermato eh nelle ore successive oggi invece come detto parliamo eh di attaccanti parliamo quindi di Lukaku parliamo di Lautaro Martinez di Alexis Sanchez la quarta punta e non solo attenzione non solo quarta punta perché lo vediamo tra pochissimo prima di partire vi chiedo vi ricordo di sostenere il nostro canale se non lo avete ancora fatto cliccate subito sul tastino iscriviti così eh ci vuole veramente un secondo vi iscrivete eh vi si attiva anche la campanella non vi perdete neanche uno dei nostri video neanche una delle nostre dirette quindi restate sempre aggiornati con passione inter detto questo parliamo subito della situazione attaccanti non mi voglio dilungare troppo oggi eh Simone Inzaghi può contare su questa rosa di attaccanti che andiamo a vedere dal sito ufficiale eh Nerazzurro eccolo qua Alexis Sanchez Facundo Colidio Romero Lukaku Eddie Salsedo Andrea Pinamonti Lautaro Martinez e manca anche Martin Satriano che va aggiunto soprattutto la luce di quello che sta facendo in questo eh precampionato non è stato inserito nella rosa del sito ufficiale dell'Inter sarà una svista magari la faremo presente ad oggi tra questi c'è un sicuro partente che è Facundo Colidio si prevede per lui un un altro prestito dopo l'ultima avventura in Belgio eh dovrebbe andare di nuovo all'estero molto probabilmente l'Inter però vorrebbe mantenerne il controllo quindi vediamo un po' quella che sarà la formula definitiva di questa partenza e soprattutto dove andrà questo attaccante eh promettente classe duemila veniamo però alle voci e agli aggiornamenti partendo da quelli un po' più rumorosi da quelli più pesanti e non potrei far altro che partire da Romero Lukaku perché eh ne abbiamo parlato in parte già nelle scorse ore già nell'ultimo episodio però sono continuate a circolare alcune indiscrezioni soprattutto si è continuato a parlare del Chelsea Chelsea che sarebbe pronto secondo i tanti a presentare un'offerta un maxi assalto diciamo così a Lukaku tra l'altro si è passati in poche da un ingaggio da dieci milioni di euro a poi si è passati a dodici adesso a quindici e non ci si ferma più fatto sta comunque che eh Lukaku la Premier lo sappiamo l'ha lasciata molto volentieri anche per motivi diciamo ambientali e mediatici all'Inter si sente a casa ha dimostrato di essere molto molto affezionato molto attaccato all'Inter l'Inter ha dimostrato non solo di volerlo blindare ma di volersi costruire attorno a lui attorno a Lukaku soprattutto quest'anno che sta avviando anche diverse attività già avviato diverse attività eh diciamo imprenditoriali anche a Milano e non solo si sta anche evolvendo dal punto di vista comunicativo eh mediatico e non solo per cui la certezza al cento per cento di una cosa eh in non in questo caso quindi della permanenza di Lukaku non si può mai dare perché chi te lo dice che poi magari che ne so all'improvviso si litiga o il Chelsea impazzisce propone duecento milioni di euro e venticinque milioni di euro all'anno a Lukaku diventa quasi impossibile dire di no però eh quindi la certezza assoluta non ci può essere però l'Inter è assolutamente orientata a blindare a Lukaku e non vuole vendere assolutamente Lukaku Lukaku è assolutamente convinto di restare quindi ad oggi si riparte sicuramente da Big Rom Lukaku al centro dell'attacco dell'Inter di realtà anzi soprattutto devo dire soprattutto se questo assalto non si concretizza subito perché poi eh più si va avanti più diventa difficile sostituirlo quindi mi viene sempre più difficile pensare che l'Inter possa privarsi negli ultimissimi giorni di mercato. Di Lautaro Martinez abbiamo parlato in maniera approfondita un paio di giorni fa quindi vi consiglio di andare a recuperare l'episodio completo qui riepiloghiamo in poche parole quello che ho già detto eh le percentuali di permanenza di Lautaro sono leggermente ma di poco inferiori a quelle di Lukaku eh se non altro perché c'è stata questa frizione che sappiamo tra la gente eh che ha di fatto rifiutato la proposta di rinnovo formulata dall'Inter detto questo Lautaro ehm Lautaro cioè vorrei passasse questo messaggio non è che Lautaro vuole a tutti i costi lasciare l'Inter questo va eh subito sottolineato anzi anzi all'Inter comunque si trova bene si trova bene a Milano quindi eh non mi aspetto rotture o ammutinamenti diciamo così che possano far poi andare ad un addio anche a cifre inferiori rispetto a quelle che sono il reale valore del giocatore inoltre non ci sono secondo me all'orizzonte per quello che stiamo vedendo club che possono offrire eh le cifre che chiede l'Inter e quelle che chiede anche il giocatore eh per poterlo convincere o almeno ci sarebbero forse in Premier League club che potrebbero anche tentare un assalto di questo tipo però Lautaro nel caso mi sembra più orientato alla Liga interpretando un po' le voci e le indiscrizioni di questi periodi detto questo ad oggi mi sbilancio sicuramente sulla permanenza di Lautaro Martinez con un rinnovo però che dovrà necessariamente entrare nel vivo subito dopo la fine del mercato detto questo poi tra un anno la telenovela di mercato ricomincerà e sono abbastanza convinto anche di questo quindi Lukaku c'è Lautaro Martinez c'è c'è anche Sanchez molto probabilmente all'interno dell'attacco Inter 2021-2022 in queste ore si sono diffuse tra l'altro delle notizie un po' inesatte sulle condizioni di Alexis Sanchez si è parlato di un nuovo infortunio o comunque di un problema accusato al primo giorno di ritiro che lo avrebbe fermato subito e avrebbe dovuto interrompere gli allenamenti queste erano un po' delle voci che circolavano in realtà per Sanchez si sta osservando un periodo di allenamento che era già stato preventivato nel senso che aveva avuto dei problemi in nazionale lo abbiamo saputo ha accelerato anche un pochettino i tempi per poter rientrare nell'ultima partita di Coppa America e quindi alla luce di questi problemi sta facendo un percorso personalizzato ma non è nulla di grave nulla di nuovo rispetto a quanto era stato preventivato ad oggi Sanchez è potenzialmente un giocatore molto importante lo abbiamo detto per caratteristiche quando ha giocato titolare se non vado errato ha contribuito a 19 gol in 21 partite quindi tra gol e assist ha fatto segnare 19 gol in 21 partite da titolare quindi tecnicamente è ancora un giocatore importante fisicamente però è un'incognita molto grande tra l'altro anche qui se non vado errato già nella primissima parte di stagione tra settembre e novembre partirà tre volte con la nazionale cilena sappiamo che ogni volta che va in cile si fa male quindi la situazione Sanchez tecnicamente non si discute a livello economico alla luce di quelle che sono le sue condizioni di quello che è stato il la continuità nei due anni di inter fin qui rimane difficilmente un po' difficilmente sostenibile un po' difficilmente sostenibile si è parlato di un possibile accordo per spalmare su tre stagioni questo ingaggio che lui dovrebbe prendere per altri due anni per ora però non ci sono stati sviluppi concreti quindi siamo in attesa in questo senso credo che l'inter per un discorso economico forse se ne libererebbe pure lo farebbe anche partire Alexis Sanchez però è difficile piazzarlo quindi si cercherà magari un accordo in ogni caso se per Lukaku siamo al 99,9 per cento di percentuale di permanenza per Lautaro magari al 95,98 su Sanchez siamo sicuramente più bassi ma sempre con percentuali superiori al 50 per cento cioè di sicuro ad oggi è più probabile la permanenza che l'addio di Alexis Sanchez le condizioni di Alexis Sanchez però invitano sicuramente a fare una riflessione più profonda sul resto del pacchetto degli attaccanti perché già l'abbiamo visto nelle precedenti due stagioni che avere Lukaku avere Lautaro Martinez e Sanchez più una quarta punta giovane però non prontissima è troppo poco ce ne siamo accorti e mi sembra abbastanza evidente sono andato a vedere nei periodi di Inzaghi alla Lazio Inzaghi alla Lazio ha sempre avuto di fatto tre attaccanti di cui due titolari un terzo affidabile più un quarto giovane però qui il dubbio è proprio sul terzo Alexis Sanchez è affidabile oppure no per cui mi aspetto e mi auguro e tra l'altro sembra secondo le ultime notizie che se l'Inter riuscirà a mettere a posto i giusti tasselli in uscita proverà a chiudere questo mercato qui con un quarto attaccante in arrivo dal mercato però deve essere chiaramente molto low cost sappiamo qual è la situazione economica dell'Inter e poi quindi il quinto slot in attacco si va ad allungare la rossa degli attaccanti con un quinto slot affidato ad uno dei tanti giovani talentuosi che comunque sappiamo che l'Inter ha a disposizione e ora ne parliamo prima però parliamo della quarta punta perché questa quarta punta potrebbe arrivare dal mercato non è semplice lo diciamo subito però l'Inter ci sta ragionando e si tiene aperto questo spiraio nel caso in cui dovessero presentarsi le giuste condizioni a fine mercato Petagna piace da sempre soprattutto il direttore sportivo ausilio però ad oggi mi sento di escluderlo anche perché Vesino che potrebbe essere la possibile pedina di scambio che piace al Napoli per ora sembra confermato attenzione a Scamacca un altro nome che in queste ore viene segnalato come nome da tenere d'occhio soprattutto perché la Sassuolo c'è la concorrenza con Caputo, Raspadori quindi i buoni rapporti tra le società inter e Sassuolo potrebbero anche favorire un'operazione low cost vediamo per caratteristiche mi piacerebbe anche però diciamo mi piace un po' meno che stavo pensando a Keita ecco l'altro nome da tenere d'occhio ci sono anche altri nomi che proprio il momento non sono molto concreti l'altro nome da tenere d'occhio in questo momento è sicuramente Keita Baldè tra l'altro ex inter conosce molto da Inzaghi ad ora è soprattutto l'entourage di Keita che sta spingendo per portare Keita all'inter per riportare Keita all'inter per l'inter è un'ipotesi da tenere d'occhio soprattutto negli ultimi giorni viene valutata come occasione di fine mercato e il fatto che il giocatore si renda anche disponibile ad aspettare l'inter lo rende sicuramente un nome appetibile anche perché è in scadenza di contratto col Monaco nel 2022 si è parlato anche della possibilità di rescindere il contratto quindi ha tutte le caratteristiche per poter essere un affare su cui puntare quindi occhio a Keita lo teniamo ad occhio con Inza che tra l'altro dicevamo ha giocato la sua migliore stagione in carriera di fatto quando era Lazio infine chiudiamo con lo slot della quinta punta come dicevo ci sono tre giocatori che si contendono il posto in questo momento Pinamonti Salsedo e Satriano con questo tra l'altro Satriano con questo super precampionato che si sta facendo eh si sta facendo largo è stato momentaneamente bloccato e tenuto lì in attesa di ulteriori valutazioni sarà valutato fino all'ultimo quindi attenzione Satriano uno di questi tre potrebbe restare per integrare il reparto degli attaccanti a disposizione di Simon Inzaghi Pinamonti ad oggi è quello forse più indirizzato alla partenza molto probabilmente quello più indirizzato alla partenza avrebbe già dato l'ok eh all'Empoli una delle ipotesi più calde in questo momento però bisogna far incastrare il discorso ingaggio e c'è sempre da non sottovalutare la pista Cagliari in nell'ottica di questa operazione Nathan Nandes detto questo io comunque su Pinamonti se si potesse non perderne il controllo cercherei di di tenerlo comunque nell'orbita nerazzura perché non sono così convinto che sia così scarso come tanti stanno scrivendo in questi giorni il ballottaggio principale però sembra appunto quello tra Salcedo e Satriano di sicuro Satriano diciamo si sta giocando al meglio la sua chance che gli è stata concessa in prima squadra e sta mettendo in difficoltà l'Inter ed è molto positivo questo però a differenza di Salcedo Satriano fin qui non ha mai avuto nemmeno eh un'esperienza nemmeno minima continuativa continuativa soprattutto in una prima squadra di prima divisione quindi Salcedo l'ha avuta anche se è stato molto sfortunato con gli infortuni la gente di Salcedo tra l'altro continua a ribadire eh giorno per giorno che resterà all'Inter per cui ad oggi in questo ballottaggio mi sento di mettere Salcedo leggermente in vantaggio su Satriano che invece può andare a giocare con continuità altrove quindi ricapitolando Lukaku Lautaro Martinez Sanchez una quarta punta che potrebbe essere Keita e Salcedo come quinto questo potrebbe essere ad oggi mentre stiamo registrando questo video la situazione attuale potrebbe essere l'attacco dell'Inter per la stagione ventuno ventidue sotto la guida di Simone Inzaghi fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo reparto di questi nomi che vi ho elencato se per voi vi chiedo questo reparto che vi ho detto quindi Lukaku Lautaro Sanchez Keita e Salcedo se questo è il miglior attacco della Serie A vi chiedo come il reparto complessivo oppure no se avete seguito l'episodio fino a questo punto mettete l'emoji l'emoji del serpente l'emoji del serpente che è un emoji che non mettiamo da tanto tempo se non sbaglio nei commenti quindi l'aspetto qui sotto vi ricordo anche di iscrivervi al canale ci vediamo in diretta anche oggi tutti i giorni come sempre su youtube a 19.30 mentre su twitch dalle 14 alle 15.30 grazie a tutti i giorni come